Il consigliere di Fratelli d'Italia, Viziello, ha lanciato l'idea di tenere una seduta del Consiglio regionale a Matera, proposta prontamente recepita da molti altri membri del Consiglio regionale della Basilicata e dallo stesso presidente Cicala, che durante i lavori consigliari di ieri ha assicurato pieno impegno affinché si possano organizzare, quanto prima, i lavori consigliari nella città dei Sassi, quale concreto segno di vicinanza a chi sta vivendo momenti di grande disagio. Una seduta consigliare a Matera, per Viziello, servirà a fare il punto sulle misure da mettere in campo, in favore sia del patrimonio pubblico, sia dei cittadini e delle imprese della provincia di Matera, che hanno subito danni per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche dei giorni scorsi, e per riflettere sull'immanenza di una nuova cultura, quella della prevenzione, del ripristino dell'equilibrio idrogeologico e della lotta ai cambiamenti climatici, che generano i fenomeni meteorologici estremi, eventi sempre più ricorrenti, al cui cospetto non è più consentita alcuna forma di superficialità.